Nuovo Kono Maxi Bon, vaniglia e caramello Questo mi ispira un sacco Anche a me, e lo sai perché? L'infezione è bella E perché il caramello non costa niente, quindi può essere buono Ma anche la vaniglia costa Ma la vaniglia ne serve un per cento neanche, dai Lo pregono ancora meno Caramello 8%, vedi? Dov'è la vaniglia? Non c'è? No, c'è, ma l'hanno messo dopo la farina di semi di carrube Meno dello 0,4% Porca miseria Che t'avevo detto io? Non è manco vaniglia, è aroma di vaniglia È minuscolo Vabbè, questo è il più fedele di tutti, almeno, dai È anonimo Mi chiami Un gusto vaniglia e caramello Nella testa delle persone il ragionamento è La prima cosa che io devo sentire quando mordo è vaniglia e caramello La prima cosa che senti, che è l'unica, è il cioccolato Non lo fare Non lo fare, cioè Se mangi solo la crema, alla fine è buona, però è molto molto lieve Ma la fai tu? Non ci penso io Grazie a tutti